Diatech col cuore, il coraggio e anche un po' di fortuna ieri sera a Verona. Dopo aver vinto il primo set 21-25, Giannelli e compagni sono andati sotto 2-1, perdendo il secondo e il terzo set rispettivamente a 23 e a 22. Nel quarto, giocato punto a punto, Verona ha avuto ben quattro palle match, tutte annullate con sole protagonista a muro. A chiudere il parziale in favore dei Trentini e portare il match al tie-break, è stato un ace di Bratoev dopo che Lanza aveva trovato il contro-break. Poi nel quinto e decisivo mini-set, la squadra di Stoicef ha messo la freccia sul 9-12 con Lanza e Giuric protagonisti, andando a chiudere 10-15. Due punti che permettono alla squadra trentina di restare al terzo posto, superando proprio Verona raggiunta da Perugia a quota 21. In testa allungano Modena e la Lube, prossima avversaria dei Trentini, da non perdere al Palatrento il pomeriggio di Santa Lucia. Il risultato era la cosa principale, a lottare fino all'ultimo punto e a vincere una partita persa nel quarto set mi fa solo piacere, però come ho detto anche l'altra volta preferisco di parlare della parte tecnica e lì dobbiamo migliorare tanto, dobbiamo lavorare. Spero che questi risultati ci danno la possibilità nella sosta di lavorare bene e di mettere a posto la nostra squadra. Doveva andare così, è stata una partita molto combattuta, poteva andare anche per loro la vittoria, ma siamo riusciti a farlo noi. È stata una partita incredibile, durissima, probabilmente, anzi sicuramente, con tanti errori tecnici, tanti errori al servizio, però dal punto di vista agonistico credo sia stata una grande partita e la gente credo si sia divertita. Noi abbiamo fatto veramente una grande rimonta, probabilmente Verona in quel frangente lì ha sprecato qualcosina, ma noi siamo stati bravi perché abbiamo giocato delle azioni lunghe che poi abbiamo vinto. Niente, questo è il carattere di questa squadra, già l'abbiamo dimostrato l'anno scorso, negli anni passati, e quest'anno dovrà essere ancora così per tutta la stagione.